Dopo le analisi di ETS Bergamo che quest'anno hanno promosso tutte le acque dei laghi bergamaschi con 31 punti definiti con qualità eccellente ed uno con qualità buona, ottime notizie giungono anche per il lago di Iseo. Legambiente e la sua campagna goletta dei laghi hanno fatto tappa nei giorni precedenti sul Sebino, esponendo poi i risultati dei monitoraggi microbiologici eseguiti per individuare scarichi non depurati e inquinanti, incurie e inquinamento da microplastiche, cementificazione e captazione delle acque. Dei sette punti sottoposti a campionamento in questa stagione, soltanto uno è risultato fuori dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, ovvero la foce del fiume Olio a Costa Volpino. L'emergenza siccità ha però influito sui prelievi e le modalità di lavoro di goletta perché a differenza degli anni precedenti, quest'anno non sono stati effettuati prelievi in foce per via della mancanza d'acqua. Effettuando un'analisi con i dati emersi negli anni precedenti c'è una continua tendenza positiva per il Sebino, che era già stato promosso un anno fa dopo il disastroso bilancio del 2018, con i due punti fortemente inquinati nel Bresciano, Peschiera, Monteisola e Pisogne in località d'Arsena.